Noi da mesi abbiamo informazioni contraddittorie, si parla prima di strada destinata solo a passaggio ciclopedonale, poi si è parlato di ZTL, per poi rimangiarsi tutto e dando alla stampa informazioni in cui si dice tutto il contrario. Da Via Peano Palazzo Moroni appare sempre più lontano, i residenti si sentono abbandonati e dopo diverse richieste di incontro andate a vuoto, l'inaugurazione del sottopassaggio di Via Bezzecca sarà finalmente l'occasione di vedere arrivare qui un amministratore comunale. Finalmente si vedrà il sindaco, si vedrà forse qualche assessore perché è da mesi che li aspettiamo qua, ci chiediamo anche perché non vogliono affrontare il problema, perché sfuggono continuamente al confronto e perché si nascondono continuamente. Gli abitanti di quest'area di Padova da tempo diventata un cantiere sia per il sottopassaggio che per le strade in progetto per il centro commerciale all'ex foro Boario in una viabilità che rischia di schiacciarla, non intendono assistere passivamente ai lavori come quelli del nuovo raccordo alla stradina di Via Peano attrezzato davanti alle case con un guardrail definito da Formula 1. Addirittura si è lamentata una macchina della polizia con noi del guardrail, ma ci rendiamo conto di che cosa stiamo parlando? Cioè noi usciamo da qui, bisogna stare attenti perché non vediamo nessuno, insomma non siamo in una tangenziale.